Quante stelle! Sai che le vendono? Scommetto che le hanno comperate tutte. No, se facciamo in fretta ce n'è una anche per noi. Eh sì, ci sono stelle che fanno gola a tutti quando hanno la qualità del Negronetto con il suo sapore inconfondibile o la varietà e il gusto di tanti piatti nati sotto la buona stella. Allora, hai scelto la nostra stella? Quaggiù o lassù? La stella di Negroni vuol dire qualità. Grazie.